L'Arma dei Carabinieri è legata a un motto, creato nel 1914 in occasione del suo primo centenario, nei secoli fedele. Oggi a Bassano questo motto riecheggiava fiero con una piccola licenza, perché potremmo dire che l'Associazione Nazionale Carabinieri Bassanese è stata nel secolo fedele, pronta a usare il plurale e pronta a festeggiare altri traguardi. L'emozione ha il sopravvento rispetto alla ragione, ma deve essere così, perché per noi è un momento di festa. L'abbiamo denominata questa la festa dei nostri primi cento anni, perché? Perché l'auspicio è che la sezione Bassano e Grappa continui la sua attività nel territorio, sempre vicini alla gente e per la gente, anche per il prossimo futuro. Devo dire che per noi è un motivo di orgoglio essere qua quest'oggi, con i nostri massimi rappresentanti a livello della gerarchia militare e della gerarchia dell'Associazione Nazionale Carabinieri e con tutta la cittadinanza, le autorità civili. Il Comune di Bassano ha esposto per l'occasione il gonfalone a testimonianza di un onore meritato e riconosciuto. Per noi è un grande onore avere il gonfalone della città di Bassano e Grappa decorato di medaglia d'oro al valor militare, perché questo è un segno per noi di grande affetto e vicinanza della popolazione tutta bassanese nei nostri confronti. Una giornata di festa per chi fa del volontariato, dell'impegno, del coraggio e della vicinanza alla popolazione il proprio credo. Un secolo di storia per l'Associazione Nazionale Carabinieri di Bassano che è pronto a rinnovarsi per essere sì nei secoli fedele. È un importante traguardo, finalmente è arrivato, oggi è il momento di festeggiare insieme all'Arma in Congedo, che come ho già detto nei giorni scorsi per noi rappresenta veramente tanto, rappresenta quei valori insomma che noi siamo destinati a far proseguire.